Cede dopo l'improvviso e inaspettato collasso della struttura muraria un rudere disabitato al civico 25 di via Castello, una delle più antiche abitazioni del centro storico di Caltagirone ubicata nel quartiere Sant'Agostino ex matrice, illese quattro persone di cui due bambini e i rispettivi genitori che in quegli attimi si trovavano in prossimità dell'aria interessata al crollo poiché stavano uscendo una macchina da un garage. La faccia del cedimento è avvenuta con il distacco di un grosso masso dalla struttura portante che si è riversato sopra uno scooter, circostanze che subito impaurite e allarmati i bambini i quali si sono istintivamente allontanati dal pericolo. Pericolo peraltro che era imminente in quanto nel volgere di pochi attimi si è accasciato dal suolo, stramazzando anche una ringhiera in ferro, il prospetto dell'abitazione a un piano, oltre la copertura. La zona per motivi di sicurezza è stata interdetta al transit a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Sul posto sono giunti più agenti del corpo di polizia municipale, i carabinieri della locale stazione e i volontari di protezione civile per gli interventi di loro competenza. Fatti e circostanze dunque che pongono ancora una volta in evidenza le problematiche legate alle condizioni di staticità dell'abitazione abbandonata dal centro storico. Da premettere pure che il cedimento della struttura portante in questo caso non è avvenuto in condizioni atmosferiche sfavorevoli, anche perché in quegli attimi non si registrava né la presenza di pioggia e nemmeno di vento. L'area sarà posta in sicurezza e saranno avviati gli interventi di demolizione controllata.